Ok, il principe mantiene sempre le promesse ed ecco a voi il video della spesa. Beh, che dire, è un video importantissimo perché è la prima volta che faccio la spesa in tutta la mia vita e la prima volta che entro ad Eurospin. Logicamente, la prima cosa da fare era prendere il carrello, ma chiaramente non sapevo come entrare, era tutto così complicato, però ragazzi capitemi, la prima volta è sempre la prima volta. Il primo reparto in cui mi sono fermato è il reparto succoso ed ho preso il mio succo preferito, il succo mirtilloso. Ragazzi, sono bravissimo a fare le rime. Poi ho cominciato a fare il salto del fringuello, una cosa che mi piace molto, la gente mi guardava male, però vabbè, il giudizio conta poco. Allora ho preso le patatine e ho continuato a fare il salto del fringuello, poi mi sono fermato nel reparto biscottoso. Dovevo prendere dei biscotti al cioccolato perché ragazzi sono un po' goloso, vabbè. Una cosa importante, basta spendere soldi perché la moneta è importante. Poi sono andato in cassa, ho pagato con carta, ho messo la spesa nel retro del velar e ragazzi il principe è sempre...